I buoni vicini è un sistema di buoni sconto costruito dall'amministrazione comunale per aiutare il commercio a non alimentare di prossimità, quindi di vicinato. I vostri commercianti di fiducia sono quelli che non hanno ricevuto i ristori perché sono rimasti sempre aperti, in realtà anche durante questo periodo, ma che hanno avuto importanti riduzioni di fatturato. Per questo motivo abbiamo pensato di aiutarli durante tutto questo periodo di festività per dare loro una mano e provare ad aumentare i loro fatturati in questo modo. Per ogni minimo di spesa di 40 euro presso un esercizio commerciale affiliato all'iniziativa I Buoni Vicini ogni consumatore riceverà un buono sconto di 20 euro. Questi 20 euro potrà spenderli in un altro esercizio commerciale per una spesa minima di 40 euro. In sostanza nel secondo esercizio commerciale, sempre affiliato all'iniziativa, di 40 euro spenderà 20 euro di tasca propria e 20 euro li mette il comune. Per questo abbiamo provato ad aiutare il commercio di prossimità perché abbiamo pensato che fare solo le dichiarazioni nelle quali si dice compratrani fosse poco utile, fosse molto più utile dimostrare di poterlo fare davvero.